ognuno di noi ha un modo unico di camminare come di vivere o elaborare una sofferenza la sofferenza ha due modi di evolversi o si trasforma in rabbia e dopo in accanimento verso il prossimo oppure si trasforma in rabbia e poi accanimento verso se stessi o i propri obiettivi ho cancellato tutto quello che di drammatico passato ho raccolto forze e speranze o inseguito un sogno un sogno ambizioso ripartendo da zero tutti mi dicevano non andare ma io sono partita guardando avanti senza mai voltarmi e ho scelto roma ho scelto roma per la mia rinascita e per ricostruire tutto ho sognato di essere un punto di riferimento dopo avercela fatta e volevo insegnare a sviluppare la propria forza interna esterna per questo è nata 4 mg in palestra online la palestra dell'anima e del corpo ora attraverso essa posso essere un punto di riferimento per molti per migliorare il proprio stato di forma fisica mentale due parti imprescindibili se vuoi puoi non c'è nulla che ti può fermare